ciao a tutti allora ragazzi ragazzi mi state scrivendo un botto di commenti sempre così grazie mille davvero però oggi sono un po così non mi vedo bene assolutamente mi vedo malissimo però grazie per tutti i commenti comunque vi volevo solamente dire in questi pochi minuti di live che anche noi belli io non mi considero bella però mi considero normale ci sono comunque quei momenti in cui tu ti guardi allo specchio e dici ma non mi sento bene ecco questo possiamo dire che è ciò che mi sta accadendo in questo periodo grazie mille ragazzi davvero grazie però davvero voi siete belli perché mi vedete così ma io sinceramente non mi vedo così bella come voi dite comunque è una cosa un po difficile da spiegare perché io comunque ci ho messo tanto tempo ad accettarmi e adesso ricadere sempre in quelle cose che appunto mi accadevano in passato mi fa un po male però grazie per tutti i commenti ricordatevi siamo tutte belle anche se io non tanto vabbè raga io vi saluto ciao 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 ciao